Serie B, Vasari recupera il turno che fu rinviato lo scorso dicembre e batte il Prato Sesto 24-20. Una partita molto combattuta, primo tempo concluso sulle 21-20 per il Vasari. Gli ospiti, anche con la grossa esperienza di due giocatori professionisti, hanno provato fino in estremis a ribaltare questo risultato, senza peraltro riuscirvi. Anzi, sono stati giallo-blu a rettini a trasformare un penalty e chiudere, come abbiamo detto, vincendo 24-20. È stata una partita dura, combattuta molto lì davanti, ci hanno sorpreso con i tre quarti un paio di volte, più o meno con due fotocopie di mete. È stato molto combattuto, ma tutto sommato abbastanza leale, con un buon arbitraggio e siamo contenti comunque del risultato perché abbiamo tenuto fino all'ultimo minuto. C'è senza altro soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria che è importante, ci fa raggiungere quasi la salvezza. Con ampio anticipo ci sarà quindi modo di far crescere ulteriormente altri giovani. Anche oggi c'è stato un nuovo esordio, ogni domenica un giovane è in campo e quindi siamo speranzosi di finire in crescendo il campionato.